un modo nuovo e diverso di passare diversamente la festività del primo maggio una piazza caribaldi soleggiata ospitato la prima sacra in moto organizzata dal motoclub i baroni di nicosia presenti da tempo nella realtà siciliana del mondo biker con affiliati provenienti anche dal nord italia centinaia le moto e di bikers provenienti non solo da nicosia ma anche da alcuni comuni vicini da enna il gruppo gladiatores coorganizzatore dell'evento le moto hanno fatto bella mostra tutte parcheggiate attorno alla piazza con le cromature luccicanti al sole uno spettacolo unico e particolare per gli amanti delle due ruote in piazza sono stati allestiti diversi stand che hanno ospitato prodotti tipici locali ma anche prodotti artigianali per i visitatori la possibilità di degustare i docattoli braccialetti pizzillati mostraccioli ricotte formaggi mozzarella ed il celebre tartufo del ebrodi il tutto annaffiato dalla birra artigianale prodotta dal birrificio nicosiano i 24 baroni e di riguori tipici siciliani presenti anche stand con le creazioni tutte in cuoio e pelle e abbigliamento uomo e donna in perfetto stile biker in via fra gli test è stato allestito sempre in tema motoristico lo stand dell'associazione veicoli storici protagonista nicosia dai diversi eventi è stata l'occasione per presentare le prossime manifestazioni tra cui spicca la mostra fotografica su stefano lamotta dal 23 maggio al 18 giugno il 4 giugno il passaggio del giro di sicilia con il concorso fotografico e il 2 e 3 settembre il secondo raduno dei veicoli storici la giornata è stata animata con balli e musica tipica siciliana dal gruppo folkloristico capizium il gruppo si esibito in piazza garibaldi sul palco ed anche per le vie del centro cittadino grazie a tutti